Sul dischetto va proprio il capitano, conclusione potente e precisa, al quinto la Roma è in vantaggio. Vallotta intuisce ma non riesce ad opporsi, Totti così può fare festa, il rigore. Trasformazione affidata a Milanetto che al 45esimo trova l'uno a uno, poi l'intervallo sull'espressione stupende ha fatto bene. Cinque minuti più tardi il Modena concretizza la sua superiorità. Il taglio di Camarà aggeva lo scatto di Sculli che avanza in area il tocco sull'uscita di Antonioli. Il gol del 2 a 1 del vantaggio si concretizza così. Ucidità e freddezza si combinano nel tiro di Sculli.